In queste ultime ore nella città di Agropoli c'è un clima di tensione dovuto al caso di coronavirus che è interessato una professoressa del posto. Sono momenti davvero difficili in attesa del riscontro dei test effettuati sulle 11 persone che sono state a stretto contatto con la donna agropolese e non mancano commenti anche offensivi nei confronti della famiglia, si sente di dare un messaggio alla comunità. Beh innanzitutto io mi auguro che la nostra concittadina nonché collega del liceo quanto prima possa guarire ed essere restituita sana all'affetto dei propri cari così come mi auguro che tutte le persone che sono venute in contatto con lei risultino negative ai test. Detto questo credo che dovremmo assumere più che mai un atteggiamento di responsabilità a tutti e allo stesso tempo un atteggiamento di prudenza e evitare soprattutto sui social che in questo momento stanno impazzendo di diffondere allarmismi e false notizie. In passato durante le epidemie e non siamo ancora in un caso in questo caso ci si rifugiava nella fede pensiamo ad esempio ai promessi sposi a come il cardinale Federico e fa Cristoforo hanno affrontato la famosa peste di San Carlo. Non solo affidandosi al Signore nella preghiera invocando i santi ma anche manifestando la solidarietà fraterna ci dovremmo riscoprire più umani. Invece mi sembra che la tendenza sia diversa sia quella dell'accanimento. Allora facciamo un attimo di silenzio, sospendiamo un attimo l'utilizzo dei social, guardiamoci dentro e chiediamoci ma con questi nostri atteggiamenti che cosa stiamo favorendo, a chi stiamo aiutando, stiamo realmente facendo un servizio alla comunità o invece stiamo insinuando il sospetto e sentimenti di avversi nei confronti delle altre persone. Per questo il mio appello è questo, osserviamo quanto le autorità sanitarie competenti hanno predisposto. Attendiamo con fiducia e speranza l'esito dei risultati e soprattutto cerchiamo di riscoprire la nostra umanità. La fede cristiana ha come principio fondamentale quello dell'incarnazione, Dio che si è fatto uomo. Dunque guardare all'uomo nella sua totalità, ad ogni uomo e quindi anche a chi può aver commesso delle azioni imprudenti o che noi giudichiamo tali ma che non può essere assolutamente messo alla berlina né giudicato da nessuno.